Sono state tre coltellate a uccidere Francesco De Santis, 33 anni, nella notte tra sabato e domenica dinanzi al Barbud, nella contrada di Torre di Mare a Capaccio Pestum. Ad ucciderlo è stato Vincenzo Galdo Porpora, 25enne, che subito dopo si è consegnato ai carabinieri ammettendo le sue responsabilità. Una morte assurda quella di Francesco, giunta al termine di una banale lite. Un omicidio avvenuto dinanzi agli occhi di diversi testimoni. L'alcoltellamento è giunto poi al culmine di una discussione tra i due, forse legata a vecchi dissapori. L'omicidio si è consumato intorno alle 4 del mattino, dinanzi al Barbud, dove sia la vittima che l'assassino sono praticamente cresciuti. Francesco De Santis, che lavorava come pizzaiolo, si era fermato lì dopo il lavoro per scambiare qualche chiacchiera prima di tornare a casa. Ma lì ha incontrato il suo assassino. Secondo i testimoni, la discussione, inizialmente solo verbale, sarebbe iniziata ben prima del tragico epilogo. I due hanno litigato a lungo, fino a quando Galdo Porpora ha tirato fuori il coltello e ha colpito De Santi con tre pugnalate, una delle quali ha raggiunto il cuore. Mentre Francesco si accasciava e le persone presenti accorrevano per soccorrerlo, Galdo Porpora, resosi conto della gravità del suo gesto, si è allontanato. In pochi minuti è giunta l'ambulanza del 118, ma per Francesco De Santi era ormai troppo tardi, espirato subito dopo l'accoltellamento, sotto gli occhi di coloro che stavano cercando di aiutarlo. Il suo assassino però non è andato molto lontano, infatti poco dopo si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Capaccio Scalo insieme al suo avvocato per costituirsi. E il carabinieri ha confessato il delitto appena commesso e consegnato l'arma utilizzata, un coltello con una lama di 9 centimetri. I militari della stazione di Capaccio Scalo, del nucleo operativo di Agropoli e quello investigativo del comando provinciale di Salerno, intanto avevano già raggiunto il luogo del delitto e grazie alla collaborazione delle persone presenti ricostruito quanto accaduto. Nell'abitazione dell'assassino, subito dopo identificato, sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di ascisce. Il medico legale invece incaricato ha effettuato in primo esame esterno sul posto. L'autopsia invece si è tenuta stamattina all'obitorio di Eboli. Dopo un primo interrogatorio dinanzi ai PM nella caserma di Capaccio Scalo, Galdo Porpora è stato trasferito in carcere a Forni. Il 25enne era già conosciuto dai carabinieri che lo avevano arrestato nell'ottobre del 2017, pochi giorni dopo il blitz con il quale era stata sgominata una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. La notizia ha scosso l'intera comunità di Capaccio Pessum. Il ragazzo era molto conosciuto e voluto bene. Tantissimi messaggi di cordoio e vicinanza alla famiglia, ai genitori Francesco e Pasquale, alle sorelle Sofia e Alessia. Tanti amici infatti si sono stretti attorno al dolore che ha colpito la famiglia. Una morte inaccettabile e assurda, il commento della comunità locale.